Tirate dietro al paletto giallo e di lì fate un bello allungo, sciolto. Vieni con la mano opposta sopra, vai con la mano opposta sopra a bilanciare. Una palla indietro, una palla indietro. Ok ci sta, mira bene bravi. Sì, sì, bella parte. Vai, vai, vai. Bravo, bravo. In fondo si vai, tribuna. In avanti vai, forte, reagisci forte in avanti. Due. Vai, 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 va. Apri i grigi, apri i grigi per non dir via. Andando di là. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Calma, calma, calma. 5. Bravo, bravo. Attacco, attacco. Recuperalo. Cuoco, cuoco. Cuoco. 4. Bravo. E' qua il gioco. Chiudete sempre il campo. E' qua il gioco. Chiudete sempre il campo. 7. 2. 2. 3. Guardate il Pelle. Controlla. Cambia, cambia. Vai, vai, vai. Vai via, Pelle. Vai via, Pelle. Vai via. 13, bravo. Pelle, Pelle. 14. 14. Moise. Preciso. 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 Non lo fa crossare. Non lo fa crossare. Guarda la palla. Guarda la palla. Non lo fa calciare. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. Grazie a tutti